I prodotti agricoli campani sono i più controllati e sono risultati quelli più sicuri, è quanto afferma il presidente regionale della CIA Alessandro Mastro 5, riprendendo i dati del rilevamento che nel corso degli screening sui prodotti agricoli campani riporta che neanche l'1% ha riscontrato anomalie. Gli ultimi dati ci dicono che le nostre imprese, le nostre aziende sono quelle più controllate d'Europa e non è stato riscontrato nemmeno un 1% di irregolarità sui prodotti, questo mi sembra che sia un elemento fondamentale in questo momento. Parliamo della campagna? Le aziende campane sono quelle più controllate non solo d'Italia ma d'Europa e su tutti i controlli fatti nelle varie aziende, su tutte le tipologie di produzione è stato riscontrato nemmeno un 1% di irregolarità sulle produzioni, è quello che la CIA sta dicendo da sempre perché noi in qualche modo abbiamo richiesto alle nostre aziende, oltre i canoni normali che richiede la legge per quanto riguarda i controlli, chiediamo ulteriori certificazioni proprio a dare una maggior sicurezza al contribuente. Quindi questa è la nostra mission, la mission della CIA e dei nostri associati è proprio questa qui. Con Spese in Campagna c'è anche un portale dove ogni produttore oltre a mettere il prodotto mette il luogo dove si produce, la faccia del produttore e questo è un esempio di garanzia direi unico e straordinario perché da sempre noi il contadino, chi produce ci mette la faccia e anche la CIA in questo momento sta garantendo questo prodotto. A rimarcare il ruolo della Confederazione Italiana Agricoltori come organismo di garanzia è anche il presidente provinciale Carmine Pecoraro. In questo la nostra Confederazione garantisce al consumatore che ciò che viene fatto viene fatto rispettando dei parametri di qualità, di salubrità che sono produzioni locali, tutte riferite alla provincia di Salerno. Grazie.